La palla fermata di Marzio è una palla di 280 metalli e come tutti lo sappiamo è un carico di un metro fermato e tutti qui sono accettanti per il carico di un 5 lato, porto la presa è la parola. Le sostanzioni sono la balestra parabolica con bilanciere e la piano di regolazioni, anche questa ovviamente di valorizzazione industriale per il rischio. Durante sono la vento e bravo, sono azionato da uno strutturatore manuale posto sulla parte laterale del rimorchio, questo per consentire di un visuale maggiore durante il sondamento e l'abbassamento. L'altro rimorchio è sposto, che è sempre parte della linea Professional, è il banco alla trasse ravvicinati, denominato TAN 200 DT Professional. Questa è una vasca di tipo perigionale, ha dentro all'invento di 7 metri e all'altezza di 1,50 metri per una capacità di carico di montura di più. Anche la vasca è costruita con il cello speciale ad alta resistenza, specifica per il trasporto di materiali inerti. Questo consente il carico è costruito di avere una cala limitata, questa macchina pesa 69 puntali, per consentire i carichi dati, che non sono un'energia calcio di acquistare, un'energia di salire che ci sono produttiva, che non è meglio sforzo nella riprenanza, questo non è meglio trattare a questo campo, che non è solo un'energia, Questa è una cosa personale, spensabile, il più fantastico che non ho raggiunto in questo momento. Adesso gli diamo il ricattamento, per avere prima di alzare il termocentino del passore. Vedi l'adio che arriva, c'è anche un bel farbato, di ammattare a farbato. Rapporto gli altri, non siamo molto più alto, non sono più alti, 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 non sono più alti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti